Abbiamo convocato tutte le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali per illustrare anche tutto il percorso che permetta intanto immediatamente alle imprese che sono state danneggiate negli edifici e che devono svolgere attività produttive sia nel settore agricolo ma anche quella dell'industria agroalimentare e dei servizi. Abbiamo indicato anche il percorso veloce e semplificato che il decreto mette in campo e che permette con professionisti che fanno asseverazione di mettere immediatamente in condizione le imprese di operare. Questa è una prima cosa che abbiamo raccolto proprio dalle esigenze delle imprese. Il secondo invece è un ragionamento su tutto il percorso della ricostruzione che ha delle specificità. Le imprese e i lavoratori sono coinvolti, sia quelli che dovranno essere parte del percorso di ricostruzione, imprese dei settori, delle costruzioni, professionisti, sia le imprese che sono state danneggiate nell'indotto determinato dal sisma. Il turismo è uno di questi e c'è una specificità valnerina che è diversa dal turismo che è stato colpito nel resto della regione. Quindi dobbiamo immaginare anche due percorsi paralleli. Uno che faccia ripartire il prima possibile il turismo anche del resto della regione in tutte quelle città e in tutti quegli stabili che non sono stati interessati direttamente dal sisma ma che nell'immaginario di un turista non vengono scelti. Oggi i turisti stanno scappando dall'Umbria nel suo complesso. E poi dobbiamo fare invece delle misure specifiche come hanno illustrato gli imprenditori di Cascia e di Norcia per le imprese turistico-ricettive che operano in quei comuni, che operano nella Valnerina, dove dobbiamo immaginare un'intensità di aiuto, di sostegno ma anche di rilancio specifica, particolare perché strettamente connessa anche al percorso di ricostruzione. Quindi siamo per non solo raccogliere le istanze ma rappresentare anche questa distinzione al Parlamento e al Governo in modo che possiamo aiutare con misure efficaci gli imprenditori della Valnerina che come hanno detto anche con tanta passione, con tanto pathos, si vogliono mettere in gioco perché credono nella loro terra e credono in questa parte di Umbria come noi istituzioni ci crediamo e vogliamo aiutarli. Ecco, a suo giudizio quando potrà ripartire il turismo in maniera continuativa nei territori purtroppo più colpiti? Prima è stato, qualcuno ha citato, giugno 2017, per il resto dell'Umbria, diciamo la parte bassa. Secondo lei? Guardi, io credo che è difficile fare stime di questo tipo. È chiaro che noi dobbiamo aiutare immediatamente tutto il resto della Regione perché prima riconduciamo a normalità le città che non sono state direttamente interessate per il settore turistico e più diamo opportunità alla Regione del suo complesso e aiutiamo anche la Valnerina. Due, sulla Valnerina, su Norce e Casce in modo particolare, dobbiamo fare delle azioni che sono interconnesse. Immaginiamo che oggi la viabilità è fuori uso della Valnerina. Se dovesse arrivare un autobus dovrebbe percorrere una strada. Quindi il tema della ripartenza ha bisogno di più azioni. Ma io sono incoraggiata anche dalla modalità con la quale gli imprenditori ci chiedono priorità. Oggi l'abbiamo fatta di categoria. Io venerdì, per esempio, incontrerò un altro gruppo proprio di imprese che invece sono di altri settori che vogliono rimettere in piedi i capannoni rapidamente. Allora, prima li dobbiamo aiutare con procedure semplificate, con il contributo finanziario. Ma parallelamente, insieme con loro, dobbiamo studiare come queste strutture intanto sono oggi al servizio della ricostruzione e poi sono al servizio anche di un progetto di rilancio turistico. Sicuramente la Valnerina avrà bisogno di qualche tempo medio, più lungo del resto della regione ma vogliamo essere a fianco anche di questa sfida. Vincenzo Bianconi ha fatto un intervento appassionato. Damocle Magrelli ha detto anche con quanta voglia vogliono rimettersi in gioco e stare in prima linea e aiutare la loro terra, non solo le loro imprese ma aiutare la loro terra a rimettersi in condizioni di normalità. La regione, anche facendosi sostenere dal governo, farà la sua parte per aiutarli in questa direzione.